Il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente, il Presidente. Il Presidente. Il Presidente, il Presidente. Il Presidente, 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 il Presidente. Il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente. Il Presidente. Il Presidente, il Presidente. Il Presidente, il Presidente. il contesto di anni, perché quelle che sono considerate i 11 nostri terreni che possiamo sviluppare, che possono creare, che possono creare, che possono creare il gruppo, noi li dobbiamo salvaguardare, è il nostro primo obiettivo, e questi eredamenti che sono proponendo. Presidente, signor Sina, professore, non per l'esercizio, 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 e non porpo, oppure nel frattuore nello Whatever L'esercizio è di questeptatiche come è? Presidente, signor Sina, professore, non per l'esercizio. Eh, no! Allora io per questo vi chiesto se volete averla si dunno o passate se sto fermo da qualsiasi perso. Se volete torturare il tuo obiettivo, chiederei se volete un coAN, attenzione, non lo silvito. Allora, qui, sì, il consiglio mi chiede Direttore di direttore di direttore di direttore. Direttore di 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 direttore e non siano acevolati delle linee spazionistiche e mercoliali. Inoltre, io ho previsto anche un altro evitamento, che se vediamo molto importante, che è la destinazione ad utilizzo sociale e attenzione sociale per tutti quei popoli requisiti per acquisito edilizio e anche per dei due strani e per organizzazioni capolastiche. E ritengo qualcosa di fondamentale che vada inserito già oggi in questo piano casa, o di dettare che su queste aree, anche su queste aree che potrebbero diventare stesse, sia allungato l'ottico di palco di qualche imprenditore già frutto alla volta ad allungare i servizi di Amaci. Grazie, ora è convinto di tutto il Consiglio che avrebbe di votare più evitamento se è condividibile. Allora, no, tu senti sempre che io non ho regolarmente così, non ho l'intervento più. Vai bene così, non ho l'intervento più. Vai bene così, non ho l'intervento più. Lo dirò che ci sta per una promessa. Una promessa? Speriamo che non ci erano più le promesse dei suoi raggiunti. Ah bene, allora, proposte di evitamento. Allora, primo evitamento, eliminare il quarto punto del rilevato a tre di che, in quanto la sentenza richiamata della parte emotiva riferisce soltanto agli articoli 4,6, quel che è in forma a sede della legge regionale 19-2009, ovvero sostituire il pretentico punto con la riguente di frasi più esplicativa. La deliberazione conquistaria di chiamata continua ad indicare in specie alle sfuggioni delle unitazioni territoriali, che sono state casvate dalla settezza d'Avra, regalire agli articoli 4,5,6,7 della legge regionale di cazzote del pretentico. Secondo evitamento, sostituire il primo punto del dispositivo dell'atto deliberativo come segue, vale propria la deliberazione conquistaria del 2010-2011, eliminando la parte relativa dell'utilizzazione territoriale della linea di articoli 4,6,5,7 della legge regionale 19-2009, in conformità alla sentenza della Campania, quindi non c'è scostanza dei suoi direttori. Secondo punto, integrare, come la premessa, il giamato alto deliberativo e per gli aspetti stati lì, innanzitutto consentire, per il vero delle foglie comunale, l'attuazione degli interventi straordinari che inizia l'articolo 7,5, legge elettorale 1 del 2011, per la sola tipologia delle aree che hanno le caratteristiche di una pontevria preesistente, non superiore ai 15.000 metri cubi, a passare quindi la possibilità di applicazione del piano capi industriale di spese, e l'intenzione del solito non superiore a 15.000 metri quadrati, per rendere poco affiniti alla speculazione. Quindi ci dovete parlare da dire che non è fisica lì di grattessimo, almeno. Secondo punto, gli ambiti territoriali al gesto di trasformazione urbanistica in inizia sono tutti i guidari di proprietà pubblica e non privata, per i quali la realizzazione degli interventi di qualificazione, sostituzione inizia, sanitaria con le preesistente e nuova costruzione, è subordinata, attenzione, alla gestione da parte dei soggetti attuatori di una sola varia 30%. In un momento in cui loro vogliono realizzare il intervento del genere, devono scegliere il 30% del suolo alla comune. dei nuovi conditi residenziali da destinare ad inizia residenziali. Loro scelgono quello che hanno avvisato, e noi la destiniamo ad inizia residenziale. Questo è quello che per gli anni è la legge regionale. Oggi l'alternativa, non per gli anni di cui l'articolo 7,5 di soggetti, scusate la legge regionale, ma scelgono un'area unico minore al 30% della superficie totale di intervento, da destinare ad inizia residenziale, sociale con i dati di posti a carico di soggetti attuatori. Loro organizzano la chiesa di nostra proprietà. In aggiunta alla dotazione minima intero-capite, di spazio pubblico riservata di attività con i studi a sede di pubblico a partire, ci sono i dati di spazio pubblico di 1444 di spazio pubblico. Cioè, quindi, loro non solo ci riaccizzano le limiti a residenziale, ma ci devono anche realizzare quello che presentano le nostre spazio pubblico relativamente ai parcheggi a sede di pubblico. Capisco che la materia di queste pratiche non usate, ma dov'è otto inizia residenziale queste cose. Punto C. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica e definizia di qualificazione, di sostituzione civile o di costruzione, dovranno rispettare e parate e riportate nella tappella che segue. La tappella della risparmio e della rete di città di tante unità dei cittadini che sono stati dei voti al risultato rispetto a quelli che sono i dati di normali, sempre nel principio di obbligare il privato a fare l'opera di intervento a favore della comunità. Passo direttamente a punto di che è un punto conclusivo. Sono destinati a vivire interventiare sociale o canone sostenibile, questo dovrebbe essere abbastanza interessante delle persone che solitamente sono qui in consiglio comunale e che sono venuto iniziazzi su queste cose. Mi ricocano che sostenibili, immobili, a critiche al patrimonio mondiale, a tecno di procedure previste. Dal testo unico per evitizia, chi viene per cento data del premio un articolo 31, di alta procedura in materia in occa alla malattia organizzata con assegnazione a soggetti di tempori individuali o di scelte procedure e tenendo conto della situazione sistemica al momento delle azioni del presente deliberato. Le individuate unità immobiliate non essere autonome con l'instituzione delle parti dotute ad attivamenti, ad esempio per anni, realizzate o realizzate occlusivamente da soggetti o parzializzati nello stesso stato di famiglia o proprietà di alta condizione. E' prevista la possibilità, in base a proprie merito non sia in un programma che tra l'anno del 2020-2009, per i titolari di immobili accessibili a una proprietà comunale, in caso di ricordata di nomine, di pagare un canone sostenibile dell'occupazione. Questo è l'eventamento che ho preoccupato e che sottolupo all'attenzione di questo consiglio. Una, spero di trovare la vostra disponibilità e la votazione di questo emettamento, che è un emettamento che secondo me va nella direzione e almeno in parole questa aggiunta potrebbe perseguire, cioè quella di frenare l'affucidismo edilizio. Io mi auguro veramente, mi appello a vostra sensibilità, perché questo emettamento sia preso seriamente in considerazione, anche perché mi consigliva poi che l'opposizione non fa proposte migliorative di che fanno dell'indirizzo e di questo. quindi consiglio a favore della presidenza e chiedo che faccia parte integrante e deve fare questo mio emettamento. Mi riservo le opportune precisazioni di quattro anni che hanno visto. Grazie. 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 Grazie.